Siamo qua con Chiara Birattari, conduttrice del workshop, anche esponente di Sarpi Canaro, e nonché Bagesedoc, per cui così un parere sulla serata e poi il senso di fare una cosa di questo tipo a Baggio. È andato molto bene, la classe è attenta, insomma è stato proprio un dialogo ecco, non è stata la lezione frontale. Dialogo di livello, di alto livello. È andato molto bene, soprattutto sulla parte creativa e quindi insomma vedere un po' diverse soluzioni grafiche, ma non solo grafiche, ma anche di creazione di contenuti un po' altri, insomma mi ha aperto nuove origini. Quindi non solo come utilizzare i programmi, ma anche che cosa ha senso dire, come dirlo, cercare di essere interessanti e di non usare troppe parole, usare le parole giuste, in modo simpatico e con ironia. Software libero o software proprietario? Assolutamente libero, però uso quello proprietario. Buona, buona bella, buona ancora smalle. Buon passaggio! Buona Io